Riqualificazione di Villa del Franco e risistemazione di contrada baccanico. Oltre 3 milioni di euro per strade, marciapiedi, sottoservizi e area verde. I lavori, già assegnati alla Enersud di Cancello e Arnone, dureranno 7 mesi. Questa mattina l'assessore Preziosi ha presentato il progetto. A contrada baccanico dovranno essere rifatti tutti i marciapiedi pubblici e di uso pubblico e sistemare i tre giardini, un giardino che sta a via Pia Sarro, l'altro giardino a via Maffucci e poi Villa del Franco. Rispetto agli altri interventi ci sarà un totale abbattimento delle barriere architettoniche perché oltre ai scivoli sui marciapiedi verranno realizzati sia dei percorsi tattili sui marciapiedi per i non vedenti, quindi dei tragitti che portano i non vedenti ai tre giardini che ho detto prima, ma sia all'interno di Villa del Franco ci saranno delle mappe tattili per i non vedenti. Preziosi però, a differenza degli altri cantieri in città, non è preoccupato dall'impatto sulla viabilità in una zona dove si concentrano parecchie scuole. Noi dovremmo cercare di organizzare le lavorazioni prossime alla perna nel periodo di chiusura della scuola quindi per evitare problematiche con la scuola. Poi in fin dei conti, per quanto riguarda i sottoservizi e quindi le strade, ci saranno dei piccoli tratti di acquedotto da sostituire e un breve tratto di fognatura da via Sarro su via Pescatori. Poi per quanto riguarda le strade ci sarà solamente la sostituzione della pavimentazione bidominosa, quindi non ci sono lavori impattanti, i lavori impattanti sono sui marciapiedi. E infine ci sono novità anche per l'area antistante Il Mercatone. Pronto un parcheggio da 700 posti. A breve chiuderemo questo progetto appunto di sistemazione esterna delle aree, quindi dovrebbe essere o il prossimo bando o quello successivo la messa a gara di questo intervento. Grazie. 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 Grazie.